Musica Nella fazenda Italia il clima è rovetto L'eterna lotta tra Don Contao e Don Renzao, l'abate di Rinao, è ormai giunta al duello finale C'è posto per un solo Don nella fazenda Italia, perché anche le campane fanno Din Don e non Don Don Tutti nella fazenda aspettano la fine del duello Il truce Salvigno pensa che il suo momento stia per arrivare e festeggia dalla sua vecchia fiamma, Giorgina Melonera Ma c'è anche chi già pensa al futuro e non volendo tornare a vendere guacamole ai combattimenti di Galli cerca un impiego rispettabile Singaretto e i suoi Odemos Magnana invece danno manforte al loro amico Don Contao come solo loro sanno fare La tensione sale e qualcuno deve fare la prima mossa Chi ha sparato per primo? Chi resterà vittima di questo spietato duello? Ma soprattutto, troveranno qualche responsabile che riporti la pace? Lo scopriremo nella prossima puntata di Fazenda Italia E dalla fiction